Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi esercizio, un esercizio che incontrerete durante la prova C di competenza linguistica dell'esame Celli 3. Vi fornirò delle frasi che voi dovrete unire, utilizzando quindi forme di collegamento e modi e tempi verbali opportuni. Lì dove lo riterrete necessario potrete sostituire o eliminare parole. Vi darò quindi delle frasi, vi lascerò il tempo di riflettere su come collegarle fra di loro e vi fornirò successivamente una possibile soluzione, perché in molti casi la frase può essere costruita in modi diversi. Il vigile ha fermato il motociclista. Il motociclista correva ad alta velocità. Il vigile ha multato il motociclista. Il vigile ha fermato un motociclista perché correva ad alta velocità e l'ha multato. Ancora, il vigile ha fermato un motociclista che correva ad alta velocità e gli ha fatto una multa. Dobbiamo partire con il treno delle 19. Il treno ha 60 minuti di ritardo. Alla fine partiamo alle 20. Saremmo dovuti partire con il treno delle 19, però visto che ha avuto un ritardo di un'ora, partiremo alle 20. I miei genitori lavorano dalla mattina alla sera. La famiglia deve avere il necessario per vivere. I miei genitori lavorano dalla mattina alla sera perché la famiglia abbia il necessario per vivere. Ieri notte non ho chiuso occhio. Il continuo ronzio delle zanzare non mi ha fatto riposare. Ieri notte non ho chiuso occhio a causa del continuo ronzio delle zanzare. Luisa in quella cittadina ha vissuto anni bellissimi. Luisa in quella cittadina vuole ritornare un giorno. Luisa vorrebbe ritornare un giorno in quella cittadina dove ha vissuto anni bellissimi. Non posso incontrare Giulia oggi. Oggi ho un colloquio di lavoro importante e tanto che aspetto questo colloquio. Non potrò incontrare Giulia oggi perché ho un colloquio di lavoro importante che aspettavo da tanto. Lunedì è un giorno importante. Mio figlio si laurea in medicina. Ho fatto molti sacrifici per mantenere mio figlio all'università. Dopo aver fatto molti sacrifici per mantenere mio figlio all'università, finalmente lunedì si laureerà in medicina. Quel cantante è molto noto. Le canzoni di quel cantante sono molto popolari. Tra i giovani, quel cantante si esibisce tra due settimane al Teatro Ariston. Quel cantante, che è molto noto, le cui canzoni sono molto popolari tra i giovani, si esibirà tra due settimane al Teatro Ariston. Lucia ha perso gli appunti di diritto penale di Marco. Marco è arrabbiato con Lucia. Marco ha prestato gli appunti a Lucia. Marco è arrabbiato con Lucia, la quale ha perso gli appunti di diritto penale che lui le aveva prestato. Il nonno di Marta ha comprato le caramelle. Il nonno ha diviso le caramelle tra i nipoti. Dieci a Luca, dieci a Francesco, dieci a Giovanni. Il nonno di Marta ha comprato le caramelle e le ha divise tra i nipoti, dandone dieci ad ognuno. Ok, il video termina qui. Spero vi sia stato di aiuto. Adesso vi saluto. Come sempre, statemi bene e alla prossima. Ciao!